Dov'è venuta? Di qua? Non lo so, vediamo un po', troviamola Cerchiamola Eccola qua Aspetta che non ti vedo che sto sull'albero Ok, salve Ti permesso? Si si, inizio a pezzare le torce Oh madonna, un lardi incredibile Uh, guarda che ci sta il... Mi sembra il vindicator Io non vedo nessuno In fondo, è un villager cattivo Vedo una zucca Ah, quello Attendo la città dei suoi Eccolo, vado Però ti fa male Aia! Niente Aia nel senso il frame rate Prigioni? Celle? Aspetta, fai mi fa... no, questo mi serve Ah dai, sono prigioni Eh, penso di si eh Si, sono prigioni Ahahahah Aiuto! Cosa è? Ho trovato cose, sono ricco Ah, dai un po' Vabbè si prendiamo tutto qua Vi ridici come si chiama il nome del... del porco qua che urla? Questo qua? Eh, questo qua che fa casino E' il vindicator Non mi vendico io Tu muori Aio, ma tutto a cuore questo Madonna! Smeraldi Un'ora e mezzo Eh! E lo? Eh, non serve una cosa è pericolosa E' mica l'unico mobbolo che c'è quello Eh, che ne so Per il momento È tutto a posto C'erano pure le piscine interne sti balutti Guarda qua, una chest con del darkhawk sapping Eh, non ce ne faccio nunca Però è bella e carina la... la serba Che figlio Ma che figlio Vabbè lasciamola così Lasciamola intatta Cassa nostra E io ho tutta la chest Vabbè non fa niente No, ce la rimetto qua La chest ce la puoi pure fregare Non è quello qui No, no, voglio lasciare così Vabbè Qua c'è... Ah, tutto cesto vuoto Questo è un magazzino, vedi? Carino Dovevo farmi un po' di torce Oddio un creeper, un creeper, un creeper Se tocca la struttura... mi uccido Ucciso, ucciso Ok Ok, praticamente qua abbiamo finito Aspetta no, manca qua Wow Ah, qua c'ho ucciso uno Non so chi è... Non so quello che lo accettano Vendikator Si si Ok, allora possiamo salire anche le scale Ok Alto che Ghostbuster Si Ghost Vendikator qua Vendikator Buster Sono le peggiori cinema Guarda... Un cammino? Eh si Un cammino e un letto Bello E cazzo E cazzo che è fin Questi sono... Questi qua sono palesemente i letti che facevo quando addobbavo le case Cos'è un incontro di wrestling? Che non è il thing? Allora no, mettiamo in chiaro una cosa Voglio pure un... 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 Un coso di wrestling a casa Guarda salvo sulla terza corda Vabbè invece ti assisto dall'alto Vai Iper Vai Sopra che c'è invece? Si Uh Golden Apple Iron Eingot Eh un po' di roba Disco Prendi tu Poi c'è quello la che fa Mh Sembra che c'ha le emorroidi Basta? Probabilmente ce l'ha sai La ringrazio Qua cosa c'è? Due letti Ah Un po' gay però va bene Ehm Questa guerra Sono a casa Altri letti Altri vindicator Madonna Però là c'ho sofferto Un po' di mi dispiace pure Ok Questa qua avevo già visitato tutto quanto Allora possiamo anche tornare indietro A visitare l'altra sala L'altra ala Speriamo ci vado di culo Ci sta un altro vindicator C'è Guardalo Cos'è? Non è un vindicator È il mago Ah il mago Quello è il mago Evoca i fantasmini Che schifo Vai via Hai ucciso il mago? Eh si Si ecco che spawn appunto Quei fantasmini Che dopo un po' di tempo muovono Quando tu lo uccidi Tutto quando ti do E' tipo questo qua Me ne abbandonavo tu Il totem Il totem Il totem del non morto Praticamente se tu hai Questo oggetto in mano Hai poste per morire Tipo per donare la caduta Oste cose così Questo qua si sacrifica Al posto tuo L'oggetto si rompe E ti ridà in tanti cuori Beh allora fammi compagnia Mettila la seconda mano Questo luogo impervio Ma questi fantasmini Sai che ti possono seguire Ovunque tu vai Ti possono seguire Anche se vai tipo Nel leno nel nether Ah Seguono ovunque C'è un mago C'è un mago Guarda le trappole che evoca Allora Non puoi provare Quella donna Quella donna E siamo saliti da la no? No Siamo saliti da quella principale Ah vabbè allora Andiamo lì Tu qua Eeeh si Aioh Scusa Cos'è? Un mini Uno sbiruli sbirulà Sì E quello che hai detto tu Ah c'è una cesta Zappa Eeeh Cagate Almeno Non ci sei negato veramente Vieno tutto qui C'è tutto sto giro Ma si è sporca casa Criatino? Sì Però boh qua ci sono altre scale Ma sono quelle di prima Deficiente Ok Boh Eeeh Ok Vabbè Quindi Si può finire conclusa la nostra spedizione Sì? Si può finire conclusa Mission complete!